Era autorizzata la manifestazione, tantomeno lo era il corteo che sabato ha sfilato per le vie del centro di Verona, a partire da Piazza Bra per arrivare sotto la prefettura. Contro il Green Pass, contro l'obbligo di vaccinazione per spostamenti e servizi, erano quasi un migliaio di persone che ora rischiano pesanti conseguenze. La digossa della polizia spiega che il prefetto di Verona sta visionando le immagini girate per identificare i partecipanti, senza mascherine, senza distanziamento, senza autorizzazione. Queste manifestazioni non si possono fare, non a caso sono non autorizzate, occorre darne comunicazione in questura e si devono svolgere nel rispetto della normativa per l'ordine pubblico e della normativa anti-Covid. È evidente che c'è stata una cabina di regia a livello nazionale, perché in contemporanea queste manifestazioni si sono svolte in circa 100 città e su questo si dovrà lavorare. Manifestazioni nate sul web e autoconvocate in contemporanea in tutta Italia in spregio alle regole per contenere la diffusione del virus. Denunce e sanzioni sono previste per chi le viola. Innanzitutto per la manifestazione non autorizzata la denuncia all'autorità giudiziaria e poi si è trattato di un vero e proprio assembramento, erano privi di mascherina, quindi le sanzioni amministrative previste dalla normativa anti-Covid. Libertà! Libertà!